L'occasione di parlare delle città medie, di parlare del primo congresso annuale per raccontare quello che le città medie sono, ma soprattutto quello che possono essere in termini di prospettiva, in termini anche di sviluppo del territorio. Le città medie sono le città che in Italia stanno in mezzo tra le piccole città, le città metropolitane, ma solo quelle di gran lunga più numerose che hanno all'interno tante delle università italiane e che possono essere il vero propulsore dello sviluppo italiano.